Confermato il sequestro dei beni per gli ex amministratori di Banca Etruria accusati di banca rotta, il Tribunale del Riesame di Arezzo, presieduto dal giudice Angela Avila, ha infatti confermato la decisione emersa nel processo di primo grado, rigettando così il ricorso dei legali degli imputati, con una sola eccezione per Alberto Bonaiti, ex membro del CDA, la cui condizione dal punto di vista giudiziario e la cui consistenza patrimoniale sono risultate tali da non richiedere il provvedimento. Bonaiti è coinvolto per una sola vicenda. Restano dunque sotto sequestro i beni per l'ultimo presidente Lorenzo Rosi, per gli ex vicepresidenti Inghirami e Guerrini e per gli altri ex membri del CDA. Per le motivazioni dell'ordinanza si dovranno attendere 30 giorni, solamente allora i legali difensori potranno nuovamente impugnare il provvedimento in Cassazione. Il sequestro era già stato bloccato dalla Corte Suprema che lo aveva rimandato ad Arezzo per il riesame. La Cassazione aveva accolto i ricorsi degli avvocati che contestavano i sequestri scattati nel marzo 2019 su richiesta del commissario liquidatore di Banca Etruria Giuseppe Santoni, che con Banca Italia voleva bloccare i beni degli imputati nel processo per il crack in vista di possibili condanne. L'avvocato Giacomo Satta, che rappresenta il commissario liquidatore, aveva così fissato il valore del sequestro in 12 milioni, ossia circa il 25% in meno rispetto alla richiesta iniziale.